Trova per strada un marsupio con 2.500 euro in contanti, lo consegna ai carabinieri. Protagonista del bel gesto di onestà che ci fa ancora sperare di poter vivere in una comunità civile è un giovane del posto che lo scorso 13 luglio ha rinvenuto il marsupio mentre passeggiava sul territorio comunale di Sulmona con il bel gruzzoletto che sicuramente farebbe comodo di questi tempi. Prima ha verificato se ci fossero indizi utili per risalire a reggittimo proprietario, poi si è recato nella caserma dei carabinieri dove sono stati svolti ulteriori accertamenti. Alla fine l'oggetto con la relativa somma in contanti è stato consegnato al comando della polizia locale poiché dalla verifica degli effetti personali non si è riusciti a risalire a proprietario del denaro contante. La somma di 2.480 euro fa parte dell'elenco degli oggetti rinvenuti in città, consegnati ai vigili urbani. Chiunque dimostri di essere legittimo proprietario potrà ritirare oltre ai soldi in questione anche banconote per un totale di 90 euro, telefono cellulare Motorola di colore nero, occhiali da sole con custodia grigia. La somma da capogiro persa per strada desta comunque curiosità vista l'entità della stessa. Chissà se il proprietario si farà vivo o ipotesi non da escludere se apriranno altri scenari.